volta a sensibilizzare sul tema la popolazione. Agevolare i rapporti trasfrontalieri anche in questo campo, sensibilizzare sul dono del sangue. La prima donazione trasfrontaliera si è tenuta sul piazzale della Transalpina a Gorizia e ha visto donatori eccellenti come il Presidente Tondo, l'Assessore Ceretta e altri che hanno donato come esempio e altri donatori sloveni, quindi si è cominciato a donare il sangue anche senza confini. Transfrontaliera di sangue in collaborazione con i comuni di Gorizia e Nova Gorizia e ovviamente con i donatori della Croce Rossa di Nova Gorizia. Lo scopo qual è in realtà? Lo scopo è dire che ci siamo, perché se le statistiche saranno confermate purtroppo in Italia si sa della donazione del sangue soltanto il 5% della popolazione. Vuol dire che il 95% delle persone, semplici, comuni, qualsiasi, probabilmente non hanno mai sentito parlare di donazione volontaria del sangue e che si può donare il sangue da volontari e far del bene. Come si fa per rivolgersi alle associazioni per donare il sangue? Allora, se si vuole utilizzare lo strumento di internet è la cosa più semplicissima, andare su motore di ricerca, basta scrivere donare il sangue, magari mettendoci vicino al proprio comune di residenza vengono fuori un'infinità di informazioni. Poi lì ci sono i collegamenti, i numeri di telefono, siti, indirizzi di posta elettronica ai quali chiedere informazioni. Oppure, nella nostra zona, nel nostro territorio, rivolgersi al centro trafusionale che poi eventualmente indirizza per ulteriori informazioni a noi associazioni. 8 giovani danzatori friulani dell'Adeb, l'associazione danza e balletto di Udine facenti parte dell'atelier e gruppo...